Bentornati su MyFootballGersey. Vi mostro questa bellissima maglia dei Celtic. Questa è la seconda maglia, ovviamente in edizione FUN. FUN. Cosa ne pensate? Il costo di questa maglia lo vedete qui sopra? A dir poco imbarazzante. Vedete voi cosa fare. Come al solito vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia qui sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi la parte finale, volevo chiedervi di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN. Ciao! 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 Ciao!